A Cerignale ci sono 123 residenti e 171 votanti chiamati alle urne il 26 maggio prossimo. Non è un errore e nemmeno l'unico caso in provincia. Molti infatti risiedono all'estero. L'altra caratteristica del comune dell'Alta Valtrebbia è che come già avvenne nel 2014, anche in questa occasione si presenteranno due liste con un unico scopo, scongiurare l'astensionismo e il conseguente commissariamento prefettizio. Da una parte quindi un candidato toscano, Roberto Nistri, che ha comprato una casa a Cerignale ed è impegnato per il paese. Dall'altra il sindaco uscente Massimo Castelli, referente ANCI per i piccoli comuni a livello nazionale. Ho deciso di impegnarmi per Cerignale perché nonostante abita a Firenze è scattato una passione, un amore per questi territori. Il mio scopo è quello di offrire un punto di vista esterno per cui innovativo per continuare il lavoro di rilancio e valorizzazione di queste zone anche attraverso e soprattutto il turismo. Tutto passa sulla tutela assoluta dell'ambiente e sul cercare il recupero del patrimonio abitativo abbandonato da anni, per creare un modello di sviluppo sostenibile e crea occasioni di lavoro e per cui di residenza, in modo da agginare il fenomeno dello spopolamento delle comunità montane. Abbiamo parecchie cose in corso, una relazione centrale indolettrica, il rifacimento di tutta l'illuminazione pubblica e l'aspetto ambientale, il risparmio energetico è un punto focale fondamentale del programma attuale e sarà il punto focale fondamentale del programma futuro. Naturalmente vogliamo rivedere anche l'aspetto della gestione dei rifiuti e anche la possibilità di mettere il fotovoltaico sulle strutture del comune, proprio per sempre più eliminare carbonio. Questo tema del cambiamento climatico e dei cambiamenti ambientali deve interrogare tutti e ogni amministrazione, anche la più piccola, deve porre in essere tutte le sue energie per contrastare questo fenomeno.